Quando un uomo si presenta alla centrale di polizia di Manchester per comunicare che la sua fidanzata adolescente era appena annegata nella vasca da bagno, gli agenti rimangono subito colpiti, anche data l'età dell'uomo, e decidono di seguirlo fino alla sua abitazione. La polizia non sa però che si troverà davanti ad uno dei casi più sadici e malati che la storia del Regno Unito abbia mai conosciuto. Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi ragazzi, Dio mio, voglio parlarvi di una vicenda decisamente atroce che per alcuni aspetti ricorda, o almeno mi ha ricordato, la vicenda di Junko Furuta. Parleremo quindi, come potrete immaginare, di cose orribili e di una malvagità veramente inaudita. Per cui se pensate di essere sensibili a questi temi, non preoccupatevi, ci vediamo direttamente il prossimo venerdì con un altro video. Volevo anche dirvi velocemente che nelle prossime settimane vedrete un cambiamento della location in cui registro i video. Vedrete anche tante altre nuove cose e non vedo l'ora di parlarvene. Chi mi segue su Instagram già sa di che cosa sto parlando. Ad ogni modo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito con i file di oggi. La triste storia che voglio raccontarvi questo venerdì è quella di Kelly Ann Bates. Kelly nasce il 18 maggio del 1978 a Mottram, un piccolo villaggio di circa 10.000 abitanti poco distante da Manchester, in Inghilterra. I suoi genitori sono Margaret e Tommy Bates, che oltre a Kelly hanno anche altri due figli, uno più grande di Kelly e uno più piccolo. Durante la sua infanzia, Kelly viene descritta come una bambina estremamente dolce, creativa, anche molto estroversa. Infatti da quello che possiamo trovare sul web è una bimba di natura molto vivace e dal sorriso contagioso. Fin da piccola, Kelly matura una grande passione per l'hockey. Infatti inizierà a giocare anche in una squadra locale. E nei primi anni di adolescenza, Kelly poi si rivela essere subito una ragazza forte e indipendente, quasi dimostrando qualche anno in più rispetto alla sua età anagrafica. La ragazza ha l'abitudine di uscire e frequentare persone più grandi di lei, soprattutto perché nella sua squadra di hockey giocano anche persone più grandi. E questo secondo me ha comunque rafforzato parecchio la sua natura da ragazza forte e indipendente, insomma un po' più grande rispetto ai coetanei, almeno a livello mentale. Ovviamente i suoi genitori hanno svolto un ruolo molto importante nella sua crescita e nella sua formazione, non facendole mancare proprio nulla e trasmettendole sempre degli ottimi principi, dei forti valori e via dicendo. Il loro rapporto può definirsi ottimo, Kelly ha sempre avuto un fortissimo legame con i suoi genitori ma anche con i suoi fratelli. Quindi parliamo di una famiglia, insomma, normale, tranquilla e di una ragazza super indipendente, una bravissima studentessa che adora lo sport e che adora passare il tempo con i suoi familiari. Vive in un bel quartiere poco fuori da Manchester e ha tantissimi passioni da coltivare, ma il suo sogno nel cassetto, un giorno, è quello di diventare un insegnante, proprio per trasmettere le sue conoscenze e la sua genuinità alla categoria che più apprezza, ovvero i bambini. Kelly adora i bambini e volendo iniziare fin da subito a maturare esperienza con loro, insomma nel campo, all'età di soli 14 anni decide di trovare un lavoretto come babysitter. Vista la sua forte energia positiva e la sua voglia di lavorare, la ragazza trova quasi subito il lavoretto perché una coppia decide di contattarla per offrirla appunto di occuparsi del loro figlio. Un figlio molto piccolo, a quanto ho capito, comunque pochi anni. E off topic, scusate se ogni tanto sentite dei rumori strani, è che in questo periodo stiamo guardando il cane dei miei zii, quindi è qua in casa che ogni tanto fa un po' di casino. Comunque anche qui, quindi al lavoro, il suo primo lavoretto, Kelly non si smentisce, si rivela subito essere un'ottima babysitter, sempre puntuale, attenta, premurosa. Le mancava solo qualche anno per finire il liceo, poi finalmente avrebbe potuto iscriversi al college e studiare per il lavoro dei suoi sogni, quello che avrebbe voluto fare per tutta la vita. Insomma tutto sembra andare proprio a gonfie vele, purtroppo però le cose non andranno come previsto. Kelly non sapeva che di lì a poco la sua vita sarebbe stata completamente scombussolata dall'arrivo di una singola persona, una persona che non avrebbe mai dovuto incrociare il suo percorso. È un giorno come tanti e Kelly si sta occupando del bambino cui faceva da babysitter, aspettando l'arrivo dei suoi genitori, che intanto erano usciti a fare qualche commissione. Quando finalmente arrivano però, i due non sono soli, ma in compagnia di un vecchio amico di famiglia. L'uomo si presenta a Kelly come James Patterson Smith, e ecco lui rimane subito folgorato da questa ragazza così vivace, sorridente, che nonostante fosse così giovane, era già così matura e intraprendente. James poi si dimostra essere una persona affascinante e lusinghiera, e inizia a scambiare due parole con Kelly. Dopo aver parlato un po' e averla presa in simpatia, si offre di riaccompagnarla a casa, e purtroppo, e sottolino purtroppo, la ragazza accetta molto volentieri l'invito. E quindi vi starete chiedendo che cosa c'è di male, alla fine si trattava di un caro amico della famiglia per cui stava lavorando, non c'era in teoria assolutamente nulla di male nel fatto che lui volesse darlo un passaggio per tornare a casa. Ecco, Kelly e gli altri purtroppo non sapevano, non potevano sapere, che quell'uomo si sarebbe rivelato uno degli uomini più crudeli e malvagi della storia del Regno Unito. Ma secondo me non solo del Regno Unito. Ma chi è questo James Patterson Smith? Parliamo un attimo anche di lui. James nasce intorno al 1947-48, e dico intorno perché purtroppo la sua data esatta di nascita non è riportata da nessuna parte, così come neanche il suo luogo di nascita. Dalla sua infanzia, tra l'altro, sappiamo veramente poco, e in tutti gli articoli che ho trovato online sono riuscito a trovare proprio pochissime informazioni riguardo a lui. Cominciamo a scoprire qualcosino in più a partire dal raggiungimento dell'età adulta, quindi intorno agli anni 70. Sul web sono riuscito a trovare letteralmente solo una foto di James, quindi dovrò usare questa per tutto il video, mi dispiace, ma c'è letteralmente solo questa. Chiaramente dobbiamo prendere in considerazione l'epoca in cui James nasce, siamo alla fine degli anni 40, e l'Inghilterra, come molti paesi del mondo, si trova in uno stato devastante, insomma, perché la fine della Seconda Guerra Mondiale ovviamente ha lasciato molte nazioni in un periodo molto buio. In particolare, la Gran Bretagna deve affrontare una grandissima crisi finanziaria che si risolleverà poi negli anni 50 e 60. Quando James compie 22 anni, quindi all'inizio degli anni 70, si sposa con una donna di cui purtroppo non sono riuscito a trovare il nome. Il loro matrimonio durerà fino al 1980, anno in cui la moglie chiederà il divorzio. Il motivo? James si rivela un uomo estremamente manipolatore, aggressivo e violento. Infatti, nei 10 anni di matrimonio, la donna ha subito ogni giorno delle violenze da parte sua. Violenze che andavano dalle manipolazioni psicologiche fino a vere e proprie aggressioni fisiche. Nel corso del loro matrimonio, James ha picchietto la moglie ogni singolo giorno. Le tirava pugni, la prendeva a calci, la spintonava, la colpiva con vari oggetti. La donna poverina ha subito tutto questo per 10 lunghi anni, fino a quando non ha deciso finalmente, ha trovato la forza, insomma, di allontanarsi per sempre da quel mostro e chiedere il divorzio. James quindi ha 32 anni, è disoccupato e vive a Gorton, sempre vicino a Manchester, che deduco sia stato anche il luogo in cui è cresciuto a questo punto, ma non siamo sicuri di questo. Inizia quasi subito comunque una nuova relazione con una ragazza ventenne di nome Tina Watson, che rimarrà incinta dopo poco più di un anno di relazione. La relazione tra i due però durerà soltanto due anni, quindi dal 1980 al 1982. E indovinate un po', il motivo della separazione è lo stesso del divorzio precedente. James picchiava Tina ogni singolo giorno. All'inizio erano solo schiaffi, dati ogni tanto quando si arrabbiava, ma col tempo ha proprio iniziato ad usare Tina letteralmente come il suo sacco da box, prendendola pugni ogni giorno anche quando era incinta del loro bambino. Quando non erano i pugni, James la colpiva in testa con un posacenere, causandole anche gravi ferite, oppure la prendeva a calci sugli stinchi o addirittura in mezzo alle gambe. Un giorno Tina era nella vasca da bagno a rilassarsi, quando all'improvviso James è entrato nella stanza, l'ha afferrata per la gola e ha cercato di annegarla sott'acqua, così senza un apparente motivo. Fortunatamente Tina è riuscita a salvarsi e da lì ha capito che non avrebbe passato un solo giorno di più con quel mostro e ha finalmente deciso di andarsene portando con sé ovviamente il bambino. Purtroppo non ho trovato altre informazioni su Tina, non so in quale stadio della gravidanza fosse al momento della separazione, spero comunque che il bambino sia nato in salute e che Tina si sia rifatto una vita lontana da quell'uomo. Oddio, uomo, da quell'essere. Comunque arrivati a questo punto James ha 34 anni e sorprendentemente riesce subito a cominciare un'altra relazione con una ragazza di nome Wendy Mottershead. E tenetevi forte perché l'età di questa ragazza vi sconvolgerà. Wendy, quando conosce James, ha solo 15 anni. 15 anni, quindi meno della metà degli anni di James. Non sappiamo se la loro relazione si basasse anche su rapporti sessuali, Ma voglio specificare che l'età del consenso nel Regno Unito è di 16 anni, quindi dal punto di vista legale James stava effettivamente infrangendo la legge. Ci tengo a puntualizzare però che non so se i due effettivamente avessero rapporti intimi, ma d'altro canto dal punto di vista etico e morale la relazione poteva ritenersi comunque abbastanza discutibile. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo. Fortunatamente Wendy scapperà da quella relazione molto presto, quando ancora aveva 15 anni, quindi non è passato neanche un anno. E il motivo che l'ha spinta a lasciarlo è ancora una volta una strana aggressione. Un giorno James aveva provato ad annegarla nel lavandino della cucina. Assurdo. Ancora non mi spiego come James sia potuto andare avanti tutti questi anni abusando delle sue rispettive moglie e fidanzate e riuscendo sempre a farla franca senza pagare alcuna conseguenza per le sue azioni. Purtroppo da quando Wendy si è allontanata da lui, le informazioni su James sono diventate un po' più limitate. Ci abbiamo poche informazioni. Sappiamo solo che ad un certo punto si trasferisce in una casa bifamiliare a Fernival Road, un quartiere che dista circa 15 minuti dal centro di Manchester. Questa però è una parte fondamentale della storia perché quella casa purtroppo diventerà il teatro che ospiterà gli orrori al centro di questa vicenda. Arriviamo così al 1993, quindi quando James ha ben 46 anni. Abbiamo ripercorso tutto il suo background proprio perché era importante spiegare il suo passato prima che incrociasse il percorso della giovane Kelly e per dare un contesto a tutta la storia. Quindi torniamo adesso a quel giorno in cui James riaccompagna la ragazza a casa. L'uomo si dimostra essere appunto un uomo molto educato, lusinghiero, e questo fa subito breccia nel cuore di Kelly perché ricordiamoci che ci troviamo di fronte a una ragazzina di 14 anni. E nonostante lei sia già una persona matura, indipendente, rimane comunque una ragazzina di 14 anni. È ancora immersa nei suoi anni di sviluppo, di spensieratezza, ingenuità. Quindi dopo aver riportato la ragazza a casa, James le propone di rivedersi ancora. E non so né come né perché, ma Kelly ha accettato. Anzi, accetta molto volentieri la proposta e purtroppo i due da quel momento cominceranno a vedersi sempre più spesso. Dirì a poco le dinamiche del rapporto prenderanno rapidamente una piaga malsana. I campanelli d'allarme diventeranno talmente tanti che sarebbe stato impossibile ignorarli. Eppure non sono stati neanche scoperti, e quando sono stati scoperti sono stati piuttosto ignorati. James comincia a presentarsi sempre più spesso fuori dalla scuola di Kelly, perché ci tengo a ripetere che la ragazza aveva solo 14 anni ed era ancora al liceo ovviamente, mentre l'uomo avrebbe potuto tranquillamente essere suo padre. Il presentarsi spesso fuori da scuola poi si trasforma rapidamente in riaccompagnarla ogni giorno a casa. E nella testa di Kelly, molto probabilmente, non c'era nulla di sbagliato in quei gesti, perché lei li considerava affascinanti. A quell'età ovviamente tenete in conto che non si ha ancora abbastanza esperienza per poter capire quali possono essere le situazioni ambigue o di pericolo. James, d'altro canto, è un uomo adulto, sa esattamente cosa sta facendo, sa esattamente che il suo comportamento non è idoneo vista la giovane età di Kelly. In maniera lenta e sottile, però, l'uomo si guadagna sempre di più la sua fiducia, e questa è una situazione tipica di chi abusa di un'altra persona, dimostrarsi sempre carini e disponibili per riuscire a catturare, tra virgolette, la vittima e guadagnarsi la sua fiducia all'inizio. Le sue richieste di avvicinarsi a lei diventano sempre più ricorrenti e insistenti, tanto che ad un certo punto la convince anche ad andare a casa sua. Ovviamente a questo punto vi starete chiedendo dove cavolo sono i genitori di Kelly in tutta questa storia, e la risposta è che ovviamente loro non sapevano assolutamente nulla di questa conoscenza della ragazza, né tantomeno immaginavano che un uomo di 46 anni la riaccompagnava ogni giorno da scuola. Comunque, non appena James comincia a stringere un rapporto un po' più intimo con Kelly, inizia anche a ripeterle sempre più spesso di non dover dire assolutamente nulla ai suoi genitori. Le dice di mantenere il segreto ad ogni costo. Questo piccolo segreto lo sarebbe potuto durare a lungo però, perché ovviamente Margaret e Tommy iniziano a farsi domande, e cominciano anche a chiedersi perché Kelly passasse sempre più tempo fuori di casa. Kelly quindi, spronata da James, racconta ai genitori una sorta di storia che possa fungere da copertura, e si giustifica dicendo di aver trovato un fidanzato, e che il motivo per cui era spesso fuori casa era proprio perché voleva trascorrere del tempo col suo nuovo ragazzo. Ovviamente Kelly non dice ai genitori la reale età di James, né dice loro la verità sul suo nome. Infatti dice ai suoi genitori di aver conosciuto un ragazzo della sua scuola, quindi bene o male della sua stessa età, che si chiamava Dave Smith. Quindi per Tommy e Margaret la loro figlia stava semplicemente uscendo con un ragazzo della sua età, della sua scuola, di nome Dave Smith. Sembra assurdo, quasi irrealistico, ma questa copertura sembra funzionare, tant'è che James inizierà a chiamare sempre più spesso Kelly al telefono fisso di casa, fingendo di essere questo ragazzo quattordicenne. Lo so, nemmeno io riesco a spiegarmi come un uomo di 46 anni abbia potuto fingere di essere un adolescente, ma è così. I genitori in quel momento non dubitano di niente, pensano semplicemente che il fidanzato della loro figlia sia un ragazzo premuroso, che si preoccupa per lei, e che la vuole sentire molto spesso. Le chiamate dunque diventano sempre più frequenti, e la ragazza inizia a passare sempre più tempo a casa di James. Pensate che questa storia, questa relazione, sarebbe andata avanti in questo modo per ben due anni, fino a quando Kelly non arriva ad avere 16 anni. Da questo momento in poi la storia prende una svolta, e il motivo è semplice. Come vi anticipavo all'inizio, nel Regno Unito l'età del consenso è di 16 anni, quindi arrivati a questo punto James legalmente non ha più bisogno di nascondere la relazione con Kelly. In questi due anni Margaret e Tommy non avevano minimamente sospettato che la loro figlia stesse frequentando un uomo molto più grande di lei, e purtroppo, per fortuna, non conosciamo nemmeno i dettagli del loro rapporto. Non sappiamo cosa facessero quando erano da soli. Ad essere onesto mi vengono i brividi a pensare cosa potesse fare James a Kelly lontano dagli sguardi indiscreti. Specialmente una volta guadagnata la sua fiducia. Non so nemmeno se i due avessero rapporti, ma sicuramente James, in tutto quel tempo, ha avuto la possibilità di manipolare Kelly a suo piacimento. L'ha praticamente rinchiusa in una sorta di bolla, facendole come un lavaggio del cervello. Gli anni dell'adolescenza sono gli anni dello sviluppo, gli anni in cui si fa più esperienza, e quindi per lui è stato davvero molto facile esercitare un controllo sulla mente della giovane Kelly Ann Bates. Questa copertura va avanti fino al 1994, quando Kelly ha ormai appunto 16 anni, e James ne ha 48. I due decidono quindi di uscire allo scoperto e rivelare ai genitori della ragazza la loro relazione. Che idea di merda, scusate. Però in realtà, no, che idea di merda da parte di lui. In realtà però è una cosa buona. Non che sia servita a molto, ma vabbè. Kelly, una mattina, chiede a sua madre se fosse possibile portare Dave a casa per presentargli. E ovviamente Margaret non può fare altro che essere super entusiasta. Finalmente felice di conoscere questo famoso fidanzato segreto che, vi ricordo, secondo i genitori aveva la stessa età di Kelly. Per cui un giorno, dopo le lezioni, Kelly torna a casa sua con Dave, ovvero James. Ma in quel momento i suoi genitori non erano in casa. Così i due trascorrono un po' di tempo insieme in casa. La ragazza gli mostra l'abitazione e la sua camera da letto. Il che a pensarci mi fa ancora una volta venire i brividi. Dopo un paio di ore, i genitori tornano a casa. Così la ragazza scende dal piano di sopra, super entusiasta, e comunica a loro che Dave era lì con lei. Lentamente anche James mi inizia a scendere le scale e ovviamente i genitori si aspettano di trovarsi di fronte a un ragazzo giovane, di 16 anni, giù di lì. Quindi immaginate il loro shock quando si trovano davanti un uomo di ben 48 anni. Ad essere sincero, non riesco neanche a immaginare cosa abbiano pensato i suoi genitori in quel momento. Cioè, nel vedere che un uomo adulto stesse seguendo Kelly per le scale e si stesse presentando come il ragazzo segreto tanto atteso e nascosto di cui parlava da ben due anni la loro figlia. Quindi da quando aveva 14 anni. Immaginate che shock, no? Veramente. James si avvicina a loro e si presenta come Dave Smith. Porge la mano a Margaret e Tommy sorridendo. E pensate. I genitori in quel momento devono elaborare tutto quello che hanno davanti in una frazione di secondo. Hanno mille domande che li frullano in testa. Ma l'unica cosa che riescono a chiedere a James è Quanti anni hai? James allora sorride e risponde di avere 32 anni. Ora, non so se avete guardato bene la foto dell'uomo ma questa foto è stata probabilmente scattata all'epoca dei fatti. Quindi poco dopo a quando sono avvenute queste dinamiche che vi ho appena descritto. Quindi è palese che non avesse 32 anni. E anche se avesse avuto 32 anni erano comunque il doppio degli anni di Kelly. Letteralmente il doppio. E la ragazza era ancora minorenne. Quindi questa relazione si sarebbe comunque potuta definire immorale. Come minimo in un'intervista avvenuta tempo dopo Margaret, la madre di Kelly dichiarerà che in quel momento l'unica cosa che voleva fare era andare in cucina prendere un coltello e pugnalare quell'uomo adulto che stava dietro a sua figlia e che presumibilmente aveva una relazione amorosa con lei da due anni. Ma la donna sul momento ha deciso comunque di rimanere calma anche grazie all'aiuto di Tommy. Ha aspettato che Dave barra James se ne andasse per poter parlare in disparte con la figlia. Quindi non appena i genitori riescono ad ottenere un po' di tempo in privato con Kelly cosa che in quel periodo era rara perché la ragazza stava davvero passando tanto tempo con James decidono di parlarle in maniera chiara. Le dicono che questa relazione non poteva assolutamente andare avanti non poteva assolutamente funzionare come ogni genitore farebbe in una situazione simile cercano di spiegarle in maniera calma ma concisa che questo rapporto non poteva in nessun modo definirsi sano e che Dave era troppo grande per lei. Sfortunatamente però Kelly non vorrà sentire ragioni e questo penso che sarebbe davvero straziante per qualsiasi genitore. Voglio ricordarvi che ormai erano ben due anni che la ragazza stava frequentando James e penso che lui l'avesse davvero manipolata tanto. Di nuovo purtroppo per fortuna non sappiamo e non sapremo mai cosa succedesse tra le mura di casa quando erano da soli ma quello che è certo è che l'uomo stava facendo un vero e proprio lavaggio del cervello sulla povera Kelly e sapeva che il suo piano malato stava funzionando perché era riuscito nel suo intento di soggiogarla. Nella sua mente da adolescente probabilmente lei pensava che l'uomo fosse lì per aiutarla per salvarla per proteggerla essendo comunque un uomo adulto con tantissima esperienza lui voleva solo il meglio per lei e questo è il pensiero che si è insinuato nella sua testa. Nei mesi successivi la situazione peggiora ancora perché Kelly comincia a passare ancora più tempo fuori di casa anche senza avvisare i genitori. A volte passa anche interi giorni senza dare notizie a Tommy e Margaret che intanto sono sempre più preoccupati per la situazione in cui si trovava la figlia. Loro in quel momento vogliono a tutti i costi tirare fuori Kelly da quella relazione palesemente tossica e malata ma allo stesso tempo sanno di non poter insistere troppo perché si trovano davanti a una situazione estremamente delicata. Ricordiamoci che la ragazza era adolescente era immersa nei suoi anni di ribellione e purtroppo i genitori temevano che forzando troppo la mano avrebbero ottenuto l'effetto opposto ovvero che la ragazza si sarebbe allontanata ancora di più da loro e sarebbe finita nelle grinfie di Dave in maniera definitiva. A questo punto i genitori pensano che l'opzione migliore fosse quella di rimanere cauti e scoprire in maniera discreta qualcosa in più su questo misterioso Dave Smith che affermava di avere 32 anni. Nei giorni successivi quindi Margaret e Tommy decidono di informarsi a dovere fanno diversi giri in città e parlano con più persone possibili per cercare di ottenere qualsiasi informazione su di lui ma ovviamente nessuno in tutta la città sembra conoscere questo Dave Smith dei 32 anni il motivo è che non esiste non esiste nessun Dave Smith di 32 anni nessuno sapeva di chi stessero parlando e questo fa entrare i due coniugi in uno stato di profonda crisi tuttavia trattandosi di una città molto piccola comunque una periferia di Manchester non passa molto tempo prima che Tommy e Margaret riescono a scoprire la vera identità di James anche se non sono riuscito a capire come l'abbiano scoperto ma in ogni caso lo scoprono il misterioso fidanzato di Kelly in realtà si chiamava James Peterson Smith e aveva 48 anni questa scoperta manda i due genitori in uno stato di shock totale perché di punto in bianco si trovano a dover assimilare un sacco di informazioni nuove ma soprattutto scoprire con orrore che la loro figlia avesse mentito per due lunghi anni per stare con un uomo che aveva praticamente la loro età era inaccettabile intanto la relazione tra James e Kelly diventa sempre più preoccupante perché l'uomo come era inevitabile comincia a mostrare la sua vera natura le chiamate a casa della ragazza diventano sempre più frequenti ogni volta che Margaret risponde al telefono si sente rabbrividire nel sentire la voce dell'uomo dall'altra parte della cornetta che le chiede insistentemente dov'è Kelly cosa sta facendo è uscita con qualcuno queste sono le domande ricorrenti e queste chiamate sono ormai all'ordine del giorno anche più volte al giorno James inizia a controllare i spostamenti della ragazza la segue fino a scuola la aspetta all'uscita e le chiede di andare a casa sua tutti i file settimana così Kelly inizia a passare sempre meno tempo a casa sua e sempre più tempo a casa di James l'uomo inizia anche a esercitare un controllo sul modo di vestire della ragazza e sul suo aspetto la costringe ad indossare abiti scuri cosa che non era per niente nella natura della ragazza perché come vi dicevo Kelly era stravagante sempre sorridente estroversa di buon umore e amava vestirsi quindi con abiti colorati i suoi outfit rappresentavano proprio il suo modo di esprimersi il suo modo di essere esprimevano proprio la sua natura così fiorita e colorata e non era proprio da lei vestirsi tutta di nero anche il suo aspetto in quel periodo subisce un notevole peggioramento Kelly infatti smette poco a poco di prendersi cura di se stessa e addirittura di lavarsi voglio aprire una piccola parentesi riguardo a questo aspetto delle relazioni tossiche perché purtroppo è molto ricorrente in situazioni simili alla base di relazioni come queste c'è quasi sempre una fortissima manipolazione psicologica in questo caso viene chiamata anche manipolazione affettiva che è un tipo di manipolazione finalizzata a cambiare la percezione o il comportamento dell'altra persona usando schemi e metodi subdoli e ingannevoli che possono anche sfociare nell'abuso sia psicologico che fisico potere e controllo sono due facce della stessa medaglia che insieme concorrono a proteggere l'individuo dal sentirsi vulnerabile l'altro diventa così un oggetto da possedere e distruggere mentre il manipolatore individua nella sua vittima tutti quegli aspetti che a lui mancano e lavora in maniera metodica e sottile per distruggerli così da non rappresentare più un pericolo per la propria carente autostima spero di essermi spiegato nel caso di Kelly la situazione è ancora più delicata perché lei aveva solo 16 anni avere 16 anni in quegli anni lì significa probabilmente non sapere nemmeno che cosa sia una relazione tossica quindi è ancora più difficile riuscire a cogliere i segnali d'allarme la ragazza si ritrova così in gabbia perché in quel momento non vede James come una persona che sta abusando di lei ma più come un salvatore ed è anche probabile che vedesse i suoi genitori come nemici che cercavano in ogni modo di allontanarla da lui è una cosa tristissima perché se vi ricordate vi avevo spiegato come Kelly avesse sempre avuto un ottimo rapporto con la sua famiglia fosse sempre stata una ragazza vivace sportiva esuberante e socievole ma ora dopo tutto questo tempo passato con James dopo tutte queste manipolazioni dopo tutto la ragazza era diventata praticamente l'ombra di se stessa l'uomo aveva ben chiaro il suo piano fin dall'inizio fin da due anni prima e l'intento era proprio sminuire Kelly fino a farla diventare anche poco attraente nei confronti degli altri in modo da non attirare l'attenzione di altri ragazzi e uomini essere sicuro che nessuno potesse corteggiarla così sarebbe stata sua a tutti gli effetti Kelly quindi si spegne smette di sorridere va sempre di meno agli allenamenti di OK e anche i suoi voti a scuola cominciano inesaurabilmente a peggiorare e questo mi rattrista ancora di più perché è evidente che James le stesse letteralmente strappando le ali e stesse abusando di lei la madre Margaret venendo la figlia a deteriorarsi così un giorno decide di prenderla da parte e dirle che questa relazione doveva assolutamente finire e che non voleva più rivedere James insieme a lei la donna sapeva benissimo che dire quelle parole sarebbe stato come camminare su una mina pronta ad esplodere perché le cose sarebbero potute andare in due diversi modi Kelly avrebbe potuto finalmente capire e accogliere le parole della madre perché in fondo si trattava sempre di sua madre con lei che l'aveva cresciuta capita e con lei che l'amava in modo incondizionato oppure avrebbe potuto rinnegare completamente quelle parole perché Kelly ormai non era più Kelly era diventata come vi dicevo l'ombra di se stessa e l'unica sicurezza nella sua vita in quel momento era James e purtroppo come penso ormai abbiate già immaginato Kelly non darà ascolto alla madre e prenderà la peggior decisione di tutta la sua vita infatti solo un paio di giorni dopo Margaret torna a casa sale al piano di sopra e vede sua figlia preparare le valigie a quel punto la donna le chiede cosa cavolo stesse facendo la prende dalle spalle la fa girare verso di lei per guardarla negli occhi e supplicarla di non andarsene via ma Margaret si blocca non appena vede il viso di Kelly completamente ricoperto di graffi e lividi e quello è stato un vero e proprio pugno allo stomaco per lei perché in quel preciso momento alla totale conferma che James Patterson Smith uomo di 48 cavolo di anni non stava solo abusando psicologicamente della sua figlia sedicenne ma stava abusando di lei anche fisicamente diventa chiaro come il sole che quell'uomo fosse estremamente malato e che rappresentasse un vero e proprio pericolo per la sicurezza di Kelly ma la ragazza nonostante tutto decide di mentire alla madre e dice che si era procurata quelle ferite e quei lividi dopo un allenamento di ok e la situazione ragazzi da quel momento non farà altro che peggiorare sempre di più nei giorni seguenti ogni volta che Kelly si sarebbe presentata a casa dei genitori perché si si trasferirà veramente a casa di James in maniera definitiva comunque sarebbe stata sempre più coperta di lividi graffi e addirittura morsi Margaret è in preda alla più totale disperazione capisce che l'unica e ultima soluzione per cercare di riportare Kelly a casa sia contattare i servizi sociali direi finalmente e così fa chiama i servizi sociali che però purtroppo si riveleranno del tutto inutili e il motivo è semplice Kelly avendo ormai 16 anni e avendo raggiunto l'età del consenso è inattaccabile tra virgolette cioè gli assistenti sociali dicono di non poter intervenire in nessun modo nella relazione allora la donna decide di seguire un'altra strada e chiama la polizia per denunciare le violenze domestiche di cui sua figlia era vittima ma anche così si arriverà a un vicolo cieco gli agenti riferiscono di non poter fare niente perché non c'era nessuna prova che potesse dimostrare che quei lividi fossero stati in effetti inflitti da James e dall'altra parte Kelly continuava a giustificarsi dicendo di essersi fatta male agli allenamenti di OK o dopo essere magari caduto in bicicletta e questo ovviamente non aiuta ad incolpare l'uomo James d'altro canto già si immaginava che sarebbe accaduto tutto questo già sapeva che nessuno avrebbe potuto fare nulla per riportare Kelly a casa dei genitori ed è per questo che ha furbamente atteso i 16 anni della ragazza per rendere ufficiale la relazione quando sono arrivato a questa parte della storia mi sono sentito terribilmente impotente ma anche molto arrabbiato perché Margaret comunque ha provato in molti modi a fermare questa relazione malata ed è stato completamente inutile è stata a lei completamente abbandonata dalle autorità e purtroppo ho notato che in tantissimi casi che ho affrontato questa situazione si presenta sempre molto simile così le autorità che lasciano la vittima abbandonata a se stessa e aspettano che si verifichi una vera e propria tragedia prima di dire oh nessuno se l'aspettava oh ma non potevamo fare niente invece sti cazzo potevate fare tutto letteralmente davvero più andavo avanti con questa storia più sentivo il mio cuore andare in pezzi perché la povera Margaret che viveva nel terrore ogni giorno nella paura pensava che sua figlia non sarebbe mai più tornata a casa e tutto per via di alcune leggi che impediscono di intervenire in qualsiasi modo in assenza di prove che poi c'erano da una parte ovviamente è un bene che esistano queste leggi in alcuni casi ma dall'altra parte e nella maggior parte dei casi almeno secondo le mie conoscenze questo sistema è estremamente dannoso cioè bisognerebbe considerare caso per caso perché va bene Kelly può dire quello che vuole può dire che era stato un incidente a OK può dire che era stato qualsiasi cosa ma se la madre di una ragazza 16enne minorenne dice che effettivamente è il suo ragazzo 48enne a farle del male cioè fate qualcosa no? almeno andate a vedere se la situazione in casa loro è decente o meno cioè no neanche quello comunque i mesi passano Kelly compie 17 anni e riesce infine a prendere il diploma anche se non con buonissimi voti come sperava decide quindi di iscriversi al college e studiare per il lavoro che ancora desiderava tantissimo fare ovvero l'educatrice di bambini tutto questo però farà sì che la ragazza torni sempre meno spesso a casa dei genitori infatti i due coniugi la vedranno sì e no una volta a settimana e ogni volta la ragazza si presentava con dei nuovi lividi sempre più magra sempre più sporca con capelli corti spettinati stava chiaramente succedendo qualcosa di non buono Tommy e Margaret prendono così la decisione di far visita a James riuscendo in qualche modo a risalire il suo indirizzo di casa così un giorno senza alcun preavviso si presentano davanti a casa sua bussano varie volte e con il cuore in gola aspettano che qualcuno vada ad aprire e alla fine apre la porta proprio James che in realtà si dimostra sorpreso in maniera positiva di quella visita così inaspettata l'uomo saluta i coniugi calorosamente e li invita ad entrare in casa i due ovviamente rimangono un attimo destabilizzati perché loro erano furiosi per questa situazione e si aspettavano che l'uomo avrebbe reagito molto male alla visita non programmata non pensavano affatto che James si sarebbe dimostrato così accogliente così lusinghiero educato insomma penso che questo abbia sconcertato parecchio Margaret e Tommy tuttavia una volta lì i due lo seguono dentro l'abitazione senza fare troppe domande e quello che si trovano davanti ragazzi non avrebbe fatto altro che alimentare la paura e la rabbia che già stavano ribollendo dentro di loro trovano Kelly seduta sul divano del salotto rannicchiata su se stessa come se temesse qualsiasi cosa intorno a lei era molto magra e ancora una volta ricoperta di lividi quella che si trovano davanti non è più Kelly ma letteralmente la parte più vulnerabile di lei una Kelly senza gioia senza voglia di vivere impaurita denutrita i genitori riescono a stento a riconoscerla ma la cosa che più attira l'attenzione dei due è un enorme buco nel pavimento in mezzo al soggiorno un buco abbastanza grande da permettere a una persona di passarci attraverso Margaret si volta subito verso James e gli chiede che cavolo fosse quel buco cioè perché fosse lì e l'uomo si difende subito dicendo che nei giorni precedenti erano venuti alcuni operai a casa sua per via di una fuga di gas nulla di cui preoccuparsi insomma perché nel giro di qualche giorno una volta finiti i lavori avrebbero riparato tutto ma Margaret e Tommy non se la bevono hanno una bruttissima sensazione al riguardo e dentro di loro sanno benissimo che James non stava dicendo la verità ma non avevano gli strumenti per ribattere tutto questo per loro è terribilmente sbagliato come lo sarebbe per chiunque arrivano così alla conclusione che Kelly non avrebbe dovuto passare un minuto di più in quella casa degli orrori Margaret si siede accanto alla figlia la abbraccia dolcemente e lei sussurra di tornare a casa di tornare da loro che l'amavano tantissimo e che volevano davvero che lei tornasse ad essere la Kelly di prima ma sfortunatamente la ragazza ancora una volta dice di no dice che sta bene con James e che non ha intenzione di tornare a casa e questo mi ha rattristito ancora di più perché arrivati a questo punto dopo tutti questi anni passati nelle grinfie di James secondo me Kelly proprio non aveva la percezione non riusciva neanche a capire quale fosse la realtà che la circondava non era più in grado di distinguere il bene e il male proprio perché James non glielo aveva più permesso l'aveva chiusa in questa bolla e in maniera graduale l'aveva prosciugata di ogni sua passione ma anche di ogni suo sogno e in realtà di qualsiasi altra cosa arriviamo così al marzo del 1996 siamo solo a poche settimane da quando questo caso è degenerato irrimediabilmente Kelly a questo punto vive con James da mesi da parecchi mesi e se prima faceva visita ai genitori almeno una volta a settimana telefonava regolarmente per dare sue notizie adesso non fa più nemmeno quello Margaret e Tommy non ricevono più notizie dalla loro figlia anche per giorni e giorni di seguito e questo inizia a creare in loro un terribile sconforto ma anche una terribile sensazione la sensazione che siano arrivati a un punto di non ritorno il 17 marzo Margaret riceve una lettera tramite posta firmata proprio da sua figlia Kelly apre la busta e dentro ci trova un miglietto sul quale ci sono gli auguri per la festa della mamma ai piedi della pagina una firma fatta a mano peccato però che quella firma non coincida affatto con la calligrafia di Kelly e Margaret se ne accorge subito la calligrafia era quella di James poco più di una settimana dopo il 24 marzo è il compleanno di Tommy il padre di Kelly per questo entrambi i coniugi si aspettavano almeno di ricevere una visita dalla figlia ma di nuovo con loro grande dispiacere non arriva neanche una telefonata figuriamoci una visita anche questa volta però trovano una lettera nella cassetta della posta una lettera che contiene un biglietto di auguri per il compleanno di Tommy e anche questa volta però la calligrafia non è affatto quella di Kelly non era stata lei a scrivere gli auguri questa per loro è la prova del 9 questo ulteriore dettaglio inquietante manda nel panico totale i genitori che iniziano a farsi mille domande sul motivo per cui la ragazza non stesse effettivamente scrivendo quelle lettere a mano non era da Kelly tutto questo non era affatto normale non era da lei per cui decidono di contattare nuovamente la polizia questa volta con delle prove possiamo dire Margaret riesce a mettersi in contatto con il dipartimento di polizia di Manchester e denuncia gli episodi ovviamente di violenza domestica di cui pensava che sua figlia fosse vittima ecco quando sono arrivato a questo punto ho detto ok ho sentito una sorta di sollievo perché mi sono detto finalmente qualcuno avrebbe fatto qualcosa qualcuno sarebbe andato a controllare come stesse questa povera crista di 17 anni nelle mani di un 48enne qualcuno sarebbe andato in quella casa a vedere le condizioni in cui James teneva Kelly eppure cazzo scusate ma non riesco a non dire parolacce non è stato così gli agenti le rispondono che purtroppo non possono fare nulla perché in effetti non c'era alcuna prova fisica che potesse dimostrare che James Patterson Smith fosse un molestatore e che stesse abusando di una ragazza minorenne e quindi ancora una volta le autorità abbandoneranno completamente i poveri coniugi che si ritroveranno in questa situazione di totale impotenza da soli se la polizia avesse agito in quel momento se le richieste di aiuto fossero state ascoltate io credo davvero che le cose sarebbero andate in maniera drasticamente diversa ma non è andata così e purtroppo da questo momento in poi tra quelle mura si verificheranno le più saiche e macabre torture che la storia del Regno Unito abbia mai conosciuto voglio avvisarvi in anticipo che racconterò scene di un certo impatto per cui se volete saltare questa parte andate avanti fino al minuto che vi scriverò qui sullo schermo nell'arco di quelle settimane quindi dal 10 marzo fino alla metà di aprile 1996 James Patterson Smith infliggerà a Kelly Ann Bates le peggiori torture che possiate immaginare la prima cosa che fa è impedirle in ogni modo di scappare da quella casa e quindi decide di legarla mani e piedi e la lascerà legata così ogni singolo giorno all'inizio la tiene legata a un mobile mettendole anche una corda intorno al collo poi decide di legarla a un termosifone per poi infine decidere di lasciarla legata nel buco in mezzo al pavimento del salotto ricordate no? quel famoso buco che James aveva giustificato come una semplice fuga di gas lì poi lentamente l'uomo smetterà di darle del cibo Kelly inizierà a perdere sempre più peso fino a diventare pelle e ossa e oltre al cibo le sarà vietato anche di bere e di fare i bisogni in bagno ed è quando la ragazza arriva al punto di essere tragicamente malnutrita e disidratata completamente allo stremo senza la forza di reagire ecco è in quel momento che James comincia con le vere e proprie torture fisiche all'inizio erano le solite pratiche a cui Kelly purtroppo era abituata schiaffi pugni calci ogni singolo giorno poi quel mostro decide che solo quello non era più abbastanza non soddisfava più la sua sadica perversione e quindi inizia a cercare vari oggetti per casa con cui colpirla e ferirla recupera vari coltelli da cucina e comincia letteralmente a colpirla con i coltelli lasciandole profondi tagli su tutto il corpo ma anche quello molto presto per lui non è più abbastanza vuole andare oltre James recupera delle forbici e decide di usarle ripetutamente all'interno della bocca di Kelly non posso descrivervi come poi prende una pala da giardino e con quella stessa pala comincia a colpire ripetutamente le mani di Kelly fino a schiacciarle completamente e frantumarle ogni singolo osso delle mani voglio ricordarvi che questo coincide con il periodo in cui i genitori della ragazza hanno ricevuto le lettere scritte da James il motivo per cui erano firmate da lui era proprio questo James aveva letteralmente spappolato le mani di Kelly l'aveva resa totalmente incapace di scrivere con le sue stesse mani o di fare in realtà qualsiasi altra cosa con le sue mani successivamente James romperà entrambe le rotule di Kelly lasciandola anche incapace di camminare un giorno le brucerà entrambe le gambe con il ferro da stiro poi l'uomo troverà delle cesoie in casa con le quali deciderà di mutilare diverse parti del corpo di Kelly tra cui le orecchie le labbra e i genitali e se pensate che non si possa andare oltre che questo è il limite della malvagità umana beh vi sbagliate perché c'è una cosa che farà James che mi ha veramente scombussolato e mi ha fatto venire la nausea probabilmente è una delle cose peggiori che io abbia mai letto James Patterson Smith un giorno decide letteralmente di cavare gli occhi di Kelly con le sue stesse mani e voglio ricordare e sottolineare che la ragazza in tutte queste violenze fuori da ogni immaginazione era ancora viva nonostante fosse pelle e ossa disidratata senza forza e nonostante non potesse muoversi camminare o parlare lei era ancora viva e sentiva tutto poteva fare affidamento su un unico senso in quel momento prima che succedesse quella cosa bruttissima ovvero la vista ma James ha deciso di privarla anche di questo della vista e dei suoi occhi non capisco davvero come la mente umana possa essere in grado di compiere dei gesti così crudeli cioè davvero non me ne capacito cosa passa per la testa di una persona che arriva a tanto com'è possibile arrivare a tanto voglio specificare un'altra cosa terribile dagli esami avvenuti successivamente purtroppo non si è riuscito a determinare il momento esatto in cui gli occhi di Kelly sono stati cavati è possibile quindi che questa forma di tortura sia accaduta anche due o tre settimane prima della sua morte questo significa che la ragazza è rimasta legata ferita senza vedere senza sentire senza parlare senza potersi muovere per intere settimane lei però era ancora viva sentiva ogni minima ferita che le veniva inflitta in ogni momento e ogni singolo giorno Kelly ha lottato tra la vita e la morte per cinque lunghe settimane e la cosa che ancora non mi spiego è che tutto questo accadeva in una normalissima casa di un normalissimo quartiere di una normalissima cittadina se andiamo a vedere le foto su internet ci possiamo proprio rendere conto che si trattava del tipico quartiere residenziale inglese in cui le case sembrano fatte con lo stampino in cui tutto è uguale tutto è tranquillo in cui vivono famiglie persone normali con una vita normale eppure dentro una di quelle abitazioni stava accadendo tutto questo fa davvero paura pensarci ma quando James arriva alla fine di tutte queste pratiche malate capisce che è arrivata l'ora di sbarazzarsi completamente di Kelly che ormai non era neanche più un essere umano la mattina del 16 aprile James trascina la ragazza in bagno e immagino che in quel momento fosse davvero mezza morta ormai e la nega cosa ricorrente che aveva provato a fare con altre due ragazze prima di lei se ricordate così Kelly Ann Bates perde la vita in una mattina qualsiasi di un 16 aprile qualsiasi in una casa qualsiasi per mano di quello che verrà ricordato come uno degli uomini più sabici che il Regno Unito abbia mai conosciuto James non proverà nemmeno per un secondo a nascondere il corpo di Kelly o a farla franca o almeno proverà a farla franca in un modo tutto suo che secondo me riflette perfettamente la sua mentalità malata l'uomo si reca praticamente subito alla stazione di polizia locale va dall'ufficiale di turno e gli dice che la sua ragazza adolescente era annegata accidentalmente nella vasca da bagno ora non so esattamente cosa gli passasse per la testa ma davvero James pensava di poter far reggere questa versione dopo aver torturato Kelly per 5 lunghe settimane davvero pensava che i segni sul suo corpo non si sarebbero visti davvero pensava di far passare l'accaduto come un semplice incidente la risposta è sì James fino all'ultimo minuto ha davvero pensato di potersene lavare le mani come d'altronde aveva fatto sempre nelle sue passate relazioni la differenza questa volta è che l'uomo aveva le mani macchiate di sangue comunque la polizia raccoglie la sua dichiarazione e accompagna l'uomo a casa sua James poi discorta in camera da letto perché prima di recarsi alla centrale aveva spostato il corpo di Kelly e l'aveva posizionato sul letto e ricoperto con un lenzuolo e quando gli agenti tirano su quel lenzuolo e vedono il corpo della giovane la visione è scioccante si ritrovano davanti ad uno dei corpi più martoriati che avessero mai visto la ragazza è nuda non ha più gli occhi e le orbite non sono solo vuote ma mostrano i segni di un accanimento cioè James anche dopo aver fatto quello che ha fatto è infierito sulle ferite con dei coltelli più e più volte mentre lei era viva il suo corpo era completamente ricoperto di lividi bruciature tagli morsi alcune parti come vi dicevo erano state mutilate le orecchie erano state tagliate così come i genitali le mani e le ginocchie erano completamente frantumate la polizia realizza immediatamente di trovarsi davanti ad una delle scene del crimine più macabre e disturbanti che avessero mai visto e James Patterson Smith viene immediatamente arrestato sul posto con l'accusa di omicidio gli agenti risalgono subito all'identità della ragazza e i due poliziotti si recano a casa dei genitori per dare loro l'orribile notizia Tommy e Margaret ovviamente sono totalmente devastati non riescono a credere che la loro figlia sia stata uccisa in quel modo perché la loro paura più grande alla fine si è avverata e sapere che Kelly non era solo stata uccisa ma terribilmente torturata è stato destabilizzante per loro è davvero una delle notizie peggiori penso che un genitore possa sentire nel novembre del 1997 James viene finalmente portato a processo e anche dopo tutte le prove portate in tribunale e le accuse contro di lui l'uomo avrà la faccia tosta di dichiararsi non colpevole mi fa troppo incazzare quest'uomo per difendersi durante il processo James dirà che era stata la stessa Kelly a chiedergli di infreliggerle tutte quelle torture quindi lui non poteva ritenersi responsabile della sua morte io davvero non ho parole comunque all'udienza verranno chiamati diversi testimoni tra cui le donne che avevano frequentato James in passato e che avevano subito delle violenze e degli abusi da parte sua e loro descriveranno l'uomo come estremamente sadico violento e instabile mentalmente alla giuria inoltre verranno mostrate le immagini del corpo della povera Kelly e pensate che la visione di quelle foto era talmente disturbante che il Manchester Crown Kurt il tribunale in cui si è svolto il processo metterà a disposizione degli sportelli per una consulenza psicologica per tutti i membri presenti all'udienza questo per far capire la gravità di questo crimine l'accusa arriva al verdetto che James Patterson Smith ha deliberatamente sfigurato Kelly causandole il massimo dolore e tutte le ferite non erano il risultato di una sola violenza ma di una lunga serie di episodi durati per settimane dall'autopsia si rivelerà che le ferite erano così estese che l'imputato ha deliberatamente e intenzionalmente torturato la ragazza per settimane James Patterson Smith viene dichiarato colpevole di omicidio e condannato all'ergastolo con un minimo di 25 anni i 25 anni sono passati e la richiesta di libertà condizionale gli è stata negata James Patterson Smith ora 75enne è stato anche considerato troppo pericoloso per essere trasferito in una prigione pubblica e rimarrà in isolamento fino a data da destinarsi ecco questa è la storia di Kelly Ann Bates una giovane ragazza che ha perso la vita in uno dei modi peggiori che abbia mai sentito questa storia è conosciuta per essere una delle più macabre della storia del Regno Unito ma non solo del Regno Unito perché se ci pensate di tutti i casi che abbiamo visto e analizzato insieme che sono avvenuti in tutto il mondo questo è sicuramente uno dei peggiori e poi oddio si sarebbe decisamente potuto fare di più si sarebbe potuto evitare Kelly sarebbe potuta essere salvata in qualsiasi momento e questo provoca una tristezza e una rabbia veramente fuori dal normale il fine di parlare di questi casi vi ricordo non è solo il divulgare ma anche informare rendere consapevoli è importante conoscere queste storie per ricordare le vittime ma anche per renderci conto di cosa può nascondersi là fuori e soprattutto per imparare a distinguere quali sono i segnali di pericolo così da evitare che storie come queste si ripetano è fondamentale non girarsi mai dall'altra parte quando ci si imbatte in contesti simili perché la nostra conoscenza e la nostra voce potrebbero salvare delle vite potrebbero aiutare drasticamente delle persone che si trovano in situazioni di pericolo come questa e questo era tutto cerchiamo un attimo di smorzare la tensione oddio ok se in qualche modo vi è piaciuto passare del tempo con me vi invito a mettere un mi piace a questo video o un non mi piace se invece non vi è piaciuto che vedevo di in ogni caso ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto vi racconterò una storia che riguarda le app di incontri una storia davvero surreale che può insegnarci fin troppo bene ad essere cauti e scegliere con molta attenzione di chi fidarci spero perciò che rimarrete nei paraggi quindi se vi ho incuriositi iscrivervi al canale e adesso parlo con te si proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare qui trovi il video che youtube pensa ti piacerà e ricorda che youtube non si sbaglia mai mentre qui trovi la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento il prossimo venerdì con un altro file ciao